Questa è la mafia. Paura. 12 ragazzi vogliono provare a fare una cooperativa di agricoltura biologica su queste terre e chiedono aiuto. Ma io lo so che tu c'hai le crisi d'ansia e da questi ragazzi ci vai tu. Sei tu l'uomo dell'ora venuto a salvarci? Agibilità temporanea in deroga. Il bando che assegni terreno. Ma come hai fatto? Ho speso 326 euro. Di mazzetta? Ma è pochissimo. Di marca da bollo. Vengo a stare in cooperativa con voi. Cazzo però quando studiate voi del governo. Ma noi facciamo il biologico. Facciamo il biologico ma è un modo di dire no? Così vede. Dover tagliare. Do, 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 do e do. Dacci un criterio, una chiave concettuale. Ma voi siete tipo marito e moglie. Chi è che? Chi non sape fare un cazzo? Tutto il tuo conto. Ma questa non manda la mafia. Dobbiamo reagire. No. Questa la manda il mio cugino. Dobbiamo spalare. Avremo il primo stipendio. E lo Stato ci rimanda come vicino il boss al quale abbiamo portato via la terra. Buongiorno. Nicola Sanzone. Sanzone è come un loop. La paura lui la sente. Il casale! Brucia il casale! Non mi diventa! pianista! Grazie! Grazie a tutti